Mentirei se vi dicessi che non sono curiosissimo di vedere com'è Il gioco di Demon Slayer Allora, è uno degli anime più belli dell'ultimo periodo E di conseguenza il peso della responsabilità in un gioco così è abnorme Allora, siamo su PS5 Non ho idea di quali siano i contenuti perché appunto lo sto scoprendo con voi Diamo un'occhiata Tra l'altro, in italiano, per cui ringraziando Ciaro ce lo possiamo godere come si deve Il doppiaggio giapponese o inglese, affinché lo sappiate Ma l'ho messo, l'ho lasciato in inglese per ora Illuminated by firelight, a spiritual dance begins Within the blaze burns a courage tempered by battle In this conflagration, bonds between warriors are forged They crystallize together into the pillars of today Pillars with the strength to slay demons Even so The fires of conflict rage on Demons against humans Within the blaze burns a courage tempered by battle Within the blaze burns a young man's determination Tecnicamente Too slow Am aparte proprio Sabito's movements are so calculated If I don't focus, he'll just keep deflecting Tanjiro Kamado Tanjiro Kamado You were once so pitiful, but look at you now You've finally learned proper breathing techniques you've swung your sword thousands of times even as your arms were screaming in pain no matter how many times I knocked you down you got back up and challenged me again that shows true strength the fact that I am facing you with a real sword this time proves Allora premessa importante per chi non lo conoscesse nell'anima e nel manga Il gioco ha inizio in una fase iniziale della storia Ma non è proprio all'inizio inizio Diciamo che rispetto all'anime, correggetemi se sbaglio, sarà tipo la terza o quarta puntata Per cui sono già successe determinate cose E se non avete mai visto l'anime o letto il manga Vi consiglio di dargli un'occhiata perché tipo l'anime è ovunque su Amazon, su Netflix Potete guardarvelo, sono 26 puntate e è una meraviglia Per cui, allora, andiamo Vabbè, insomma, le barre di salute e la barrabilità Nella parte freddo dello schermo si trova la barra speciale che si riempie con ogni colpo inflitto Quando la barra sarà di tutto pieno, il numero accanto della barra aumenterà Vabbè, fino a tre barre Consuma le barre speciali per aumentare la tua forza con impietro e scatenare la tua tecnica finale L'indicatore circolare accanto al contatore della combinazione indica il tempo disponibile per continuare la combinazione La sua lunghezza Per sapere dall'attacco usato all'inizio della combinazione Vabbè Ok Vero dire che Mantenendo, cuidado Vabbè Posso farlo? Vabbè 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 Beh, questo è il tuo pleno Vabbè Vabbè Non è buono Non è male Ho bisogno di usare le skilli che mi ha insegno a fare a subito Vabbè 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 muovi rapidamente mannaggia muovi rapidamente non ha alcun senso questa cosa non ha alcun senso triangolo ottavo cata devo rimanere fermo adesso ha senso ah ok ho capito perfetto ce l'ho ce l'ho dunque in seguimento impeto non I will not yield! Fourth form! Stratto tight! Hold it! He grown strong. Water breathing! Tenth form! Constant flux! Splendid. There you go. I'm coming after you! There! Too slow! You lack resolve. Remember what Urokodaki taught you! Move your legs. Don't stop now! If you call yourself a man, then do it! Unless you plan to lie down and die! There's nowhere else to go but forward! Now get up! Grab your sword and face me again! If you can cut this boulder in two, I'll allow you to enter final selection. A boulder! To cut it, I need to defeat Sabito. But no matter how many times we fight... Why? Where did I go wrong? How did things turn out this way? I was just living my life... I was just living my life... Day by day... Doing honest work with my family... We were poor... But we had a nice meal in town once in a while. We... We're so happy. Whenever happiness is destroyed... You'll find the smell of blood in the air. That awful day... The one night I didn't come home... Mom... My siblings... They all died... They were attacked by a demon... And that was it. It must have been painful... You suffered, didn't you? I'm sorry. I couldn't save you. I... I'm sorry. But you're suffering too, aren't you, Tanjiro? Get up. You don't need to suffer alone. I'm here too. Together, you and I can overcome this sadness. Don't you think? That's right. I can't forget... That we still have each other. Nesuko... That night... Your humanity was torn away from you. But you still managed to hold on to one important thing. Your own life. Sabito's right. Go forward. There's nowhere else to go. I'll find a way to make Nezuko human again. I'll avenge my whole family. I... Made my decision when I picked up the sword. Now! Tanjiro! Finally... You've grown into a real man. If I gave up now, Nezuko would never go back to normal. Besides, Orokodaki has done so much for me. And I can't waste my training. Today's the day. I will defeat you. Let's go! Come on, hanno fatto un sunto da una prospettiva un po' diversa. Careful, Jason! And I can't breathe! I can't breathe! And I'm flowing through your body. Accelerate your heartbeet! With that... I can be as strong as a demon! I can do this! I know I can! e non scappare sempre ma minaccia a te ma chiudiamo così fatto pochissimo è il momento di finire questo Tanjiro è fatto in questo caso total concentrazione water breathing fourth form striking time a tai? wait no Tanjiro se vi piace l'anima è una figata razzesca a sto giorno sinceramente una figata che Continuai a vincere Tanjiro, tu dovresti ha vincitato. Il poltero... C'è Sabito e Makomo? Non credo che tu avessi fatto. Siamo sinceri, non ho mai avuto l'intenzione di mandarti alla finalizzazione. Non potevo vedere più di bambini morire. C'era sicuro che tu non potessi cercare questo bambino, ma... Bene fatto, mio figlio. C'è veramente meraviglioso. Mi sono orgoglioso, sai. C'è la mia figlia. C'è sicuro che tornate arrivati da finalizzazione. La tua sorella e io Siamo aspettando per te Inoltre il blaze Buongiorno di determinazione E con questo Nel suo心o Il passaggio Il passaggio di un spazio di demonio Per il resto sono abbastanza impressionato Devo dire Sia per fedeltà narrativa Sia per fedeltà stilistica Poi perché Allora Abbiamo fatto tutto quello che bisogna fare Con S Vabbè credo che qua fosse abbastanza semplice probabilmente Ok Quindi Dalla storia Puoi vivere l'avventura di Demon Slayer Chi messo noi Iba La storia è divisa in diversi capitoli Che sbloccherai completando tutte le storie al loro interno Dopo aver completato un capitolo Puoi tornare a giocarlo di nuovo da qualsiasi momento Vabbè Grazie ai frammenti di ricordi Potrai scoprire di più Sui personaggi Sul loro passaggio E sugli eventi Che hanno avuto luogo Di attore quinta della storia principale Puoi ritenirli durante la storia O trovarli nei luoghi che esplori Oltre a poterli visualizzare Dalla storia Puoi anche selezionare l'opzione Frammenti di ricordi Da meno storia Da meno di Paolo Durante l'esplorazione Ok Quanta roba abbiamo sbloccato Vabbè Ok Allora Frammento di ricordi Ottenuto in capitolo 2 Allora L'ultimo ostacolo Quindi se io volessi tornare al menu Ricompense Un'occhiata Un attimo Perdiamoci un attimo Ci sono gruppi Che puoi sbloccare Per ottenere abiti Da battaglia Allora Abiti Citazioni Fotoprofilo Eccetera Eccetera Tipo il calendario Dell'avvento Punti Chimezzo Ne ho 0 Quindi vabbè Ci sono diverse cose Da sbloccare Vabbè Frammenti di ricordi Ah Qua ci sono le scene Dell'anime Mi sa E non le clicchiamo Perché Non si sa mai Quindi veramente Ti ricordi Saranno Saranno Dei pezzi Dell'anime Ok Vabbè Allora Vado Tanjiro si è addestato a lungo E duramente Premesso Uro Kodaki Per trovare il modo Per difartonare umano La sorella è vendicare La sua famiglia Dopo aver assistito Al successo di Tanjiro Nella sfida del masso Uro Kodaki ha consentito A farlo partecipare All'esame finale L'ultima prova Per diventare una massa demoni Va bene Che è veramente Adesso vediamo Che succede qua Ma Che succede qua Grazie per la cena Il momento è venuto L'ultima La finala selezione È a Mount Fujikasane L'ultima 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 Ma è un paio Un paio È un paio Ma è un paio Ma è un paio Cosa È qualcosa Che dovete vedere Per te Siamo Sto sicuramente che ti sorprendi anche. Lo vedo. Cosa è questo? Si chiamata una masca di guardare. Si è enchante con un spettacolo di protezione, per evitare te da scopo. Prendetelo con te. Prendete, grazie! Questo è tutto ciò che posso fare per te ora. Il resto è per te, Tanjiro. Assi che sei benissimo. ... 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